I militari della stazione Carabinieri Forestale di Agropoli hanno accertato diversi episodi di combustione illecita di rifiuti. In un arco temporale di pochi giorni, infatti, i carabinieri sono intervenuti nelle località Collina San Marco e Mattine del comune di Agropoli e località Cafasso del comune di Capaccio Pestum. I rifiuti dati alle fiamme sono tutti classificabili, quali rifiuti speciali ed in alcuni casi riconducibili ad attività di impresa. Si tratta, infatti, di materiali da ristrutturazione edili, rifiuti plastici prodotti da lavorazioni agricole, rifiuti vegetali e stoffe. Messe in sicurezza le aree, i militari hanno effettuato rilievi ed accertamenti sui luoghi che hanno consentito di individuare la proprietà dei terreni e la natura dei rifiuti combusti e di attribuire la produzione e successiva combustione dei rifiuti e quindi individuare i responsabili. Deferiti all'autorità giudiziaria tre persone. Grazie a tutti.